70 uno l'hai tante voi che siete fai tante? ah voglio ma ne avete uno sotto eh quanto è? continui di torcherare continui di torcherare per me io ho il volto non ho il volto per me non ho il volto me lo vado non ho il volto ma non ho la tante quello di torcherà non ho la tante ma non ho la tante ma non ho la tante solo un po? 5 o 6? 2 o 6? Facciamo avanti Sì Facciamo romansiccia E ora c'è anche il pompa che frio non c'era Ho trovato il shit di nuovo Hai tagliato questo? Non c'è Non c'è altro Non c'è altro Il doppio pompa dorata Jetpack Porto massiccio Però so l'altro dello zainetto l'hanno proprio annunciato L'hanno messo a casissimo Non c'è quello della safe Eh Che poi è inutile perchè C'è lo usi un attimo Vedi dov'è? Poi lo lascio a te E' facile A meno che poco non è inutile Sarebbe utile Sarebbe utile per sapere Sarebbe utile 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 Certo Ci sei solo tu nella tua lobby Lì non c'è Oh c'è uno che fa Io sono l'albero C'è questo senso che c'è a chi è mandato pure riscato di un uomo spagnolo, spagnolo che ti ha fatto? ti ha fatto una palla ok, uno ha fatto malo Grazie a tutti. Non ho colpi d'assalto. Quanti colpi hai d'assalto? 100! Quanti colpi. 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 Ehi o la la C'è un jackassetto Ehi o la C'è un jackassetto Sì Sì L'ho eliminato Ah ma c'è una nuova munizione Ah, non c'è una nuova munizione No, la safe Non c'è una nuova munizione Non c'è una nuova munizione C'è una nuova munizione Oh, c'è una nuova munizione Non c'è una nuova munizione 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 C'è una nuova munizione